Lo screening non può fermarsi e questa è l'intenzione del sindaco di Pescara Carlo Masci, ora che sono state chiuse le tre postazioni per i test di massa. L'idea è quella di tenere operativa almeno una postazione fissa dove sottoporsi al test previa prenotazione. Il comune mette a disposizione gli spazi, ma se la proposta venisse accolta, spetterà alla ASL trovare volontari disponibili. Laddove è stato organizzato lo screening, infatti, il problema è sempre stato il medesimo, quello di avere un numero sufficiente di operatori sanitari che decidano di spendere gratuitamente il proprio tempo libero al servizio della comunità. Noi continueremo, io farò la proposta al comitato ristretto dei sindaci che ho già convocato in qualità di presidente per la settimana prossima, la proposta al direttore generale di avere almeno una postazione aperta su Pescara con prenotazione attraverso la piattaforma del comune che ha funzionato benissimo. Il tasso di positività dello screening nel capoluogo adriatico è stato molto basso, non tantissimi i cittadini che hanno aderito. Sono stati quasi 20.000 i pescaresi che si sono sottoposti al test. Esattamente 19.990. I test hanno riguardato sia cittadini che si sono recati nei nostri punti, dove avevamo 15 postazioni attive, sia studenti personaleata e insegnanti delle scuole superiori. Quindi un test molto significativo. Ci sono stati 86 che hanno avuto comunque l'esito positivo dei tamponi. lo 0,43%. Devo dire che i numeri sono molto confortanti perché questa percentuale è una percentuale che ci fa stare tranquilli ma non abbassare la guardia. Noi stiamo continuando adesso negli enti pubblici e credo che alla fine arriveremo a circa 25.000 tamponati, quindi vuol dire circa il 25%. Certo, se ce ne fossero stati di più di cittadini sarebbe stato meglio, avremmo avuto un dato più puntuale.